buona sera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video scusate per ieri se non ho potuto fare più video perché ho avuto degli impegni ero uscito e anche oggi prima darò una notizia da lunedì in poi inizierò ad andare a scuola guida e ho fatto 18 anni quindi mi prenderò la macchina ma prima devo fare la scuola guida e prendermi la patente quindi quando tornerò vediamo se poi potrò registrare vabbè da lunedì in poi non è che saranno così eh comunque non stiamo parlando di questo parliamo ovviamente del 101esimo episodio di angry shark world che cosa andremo a fare qui eh me lo ricordo benissimo dovevamo portare lo scuolo zombie al livello massimo giusto ma non ci siamo riusciti beh lo porteremo in questo episodio va bene intanto io vi auguro una buona visione eccoci qua ragazzi nel 101esimo episodio di angry shark world beh andremo a portare a livello massimo lo scuolo zombie avremmo dovuto portarlo nei recendi episodi ma lo porteremo adesso la h qua è ora livello 29 dovremmo raggiungere h qua va bene la u e dove sarà mai non la vedo voi la vedete spero che non ci sia ah ecco è nel galeone ecco qua il primo scrigno ne mancano quattro no 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 A presto. La in ne mancano tre chissà dov'è la R qua non penso però no la G vabbè per la piscina intanto qua siamo arrivati un po' per la piscina Ah! 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 No! Livello 29 Qua non ho trovato nulla di interessante Nemmeno qua Ne mancano due Fantastico Non ho trovato nulla di interessante 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 Dov'era? Ah qua Ecco qua Non ho trovato nulla di interessante Non ho trovato nulla di interessante Pure il mega gold rush Ho fatto Beh Qua siamo arrivati a livello 30 Non ho trovato nulla di interessante 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 L'acca dove può essere? Ah, la sopra nella piscina. Ma come si è permesso? Niente, questo è il suo massimo. E' un po' più piccolo lo squalo zombie. Benissimo. La U è qua. Livello 30, abbiamo raggiunto. Se moriamo, allora sì, lasciamo perdere tutto. Se non moriamo, allora no. La G, là nel galeone, lo sapevo. La G, là nel gale. La R. Ehm. 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 Che fa lo spiritoso ora? Ehm. 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 L'ho trovato. Ne manca solo uno. L'ho trovato. Basta. Allora. Ehm. 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 chiamarlo sarebbe questo l'elicoprione buzz l'elicoprione purtroppo non mi bastano poi c'è il signor snapper robo shark squalo magia nera megadond antico però non mi bastano le perle noi andremo a utilizzare questo qua raga lo squalo atomico perché ha fatto grande cose eccezionali e la prossima volta giocheremo questa qui raga la modalità estinzione ok nel prossimo episodio qui intanto dirò che abbiamo portato lo squalo zombie a livello massimo e poi nel centoduesimo episodio proviamo la modalità estinzione beh ragazzi il video è andato non tanto male è andato buon fine comunque spero tanto che questo video ovviamente di angry shark world il centonesimo episodio portiamo lo squalo zombie a livello massimo vi sia piaciuto iscrivetevi al canale vi raccomando e tome like e noi ci vedremo in un prossimo video con il centoduesimo episodio di angry shark world ok noi ci vedremo alla prossima ciao